Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Una buona giornata a tutti da Fabio Moresco e benvenuti ad un'altra puntata di Buon compleanno Venezia. Iniziamo la puntata ricordando il Santo del Giorno, 18 maggio. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno di San Venanzio. Oggi a Bene, 18 maggio 1596. Nella chiesa dei Santi Zanipolo, San Giovanni e Paolo a Venezia, i resti di Marcantonio Bragadin, governatore di Famagosta, contenuti in una cassetta di piombo, sono deposti in un incavo nel retro dell'urna marmorea. Il nobilomo era stato scorticato vivo dai turchi il 17 agosto del 1571 e i suoi resti, che la famiglia non era riuscita a riscattare, erano stati recuperati dal militare veronese Girolamo Polidori nel 1580 nell'arsenale di Istanbul. La ricognizione svolta da un gruppo di studiosi il 24 novembre 1961 ha dato conferma dell'autenticità dei resti. Nell'urna sono stati trovati parecchi brandelli di pelle umana conciata, con ciuffi di capelli e una porzione di dito. Oggi con noi! Discendente da alcune antiche famiglie veneziane, è nato e cresciuto a Venezia. Il suo lavoro di imprenditore lo ha portato tra Milano e Treviso, dove vive con la moglie e le sue due figlie, ma rientra a Venezia quando il tempo libero glielo consente. Innamorato della sua città e appassionato di vela per lunga tradizione familiare, naviga per i canali di Venezia e la laguna con un'imbarcazione tradizionale armata al terzo, caratterizzata cioè dalla forma trapezoidale della vela. Si è appassionato alla storia di Venezia, intrecciata con quella delle sue famiglie, seguendo gli studi e i racconti del padre, noto architetto ed artista veneziano. Per la rubrica Oggi con noi do il benvenuto ad Alessandro di Serra Bragadin. Benvenuto Alessandro, che sappiamo è un vero esperto velista e ormai lanciato nel mondo dei romanzi storici. Oggi l'amico ci parlerà di Marco Antonio Bragadin, di cui è onorato di portarne il cognome. Buongiorno Fabio, ciao a tutti gli amici in ascolto. Io sono Alessandro di Serra, vi ringrazio per questo invito, ringrazio Fabio per questo invito, per un argomento a cui io tengo particolarmente. Inizio innanzitutto parlando doverosamente della famiglia Bragadin, perché è una famiglia nobilissima, proveniente da Veglia, in Dalmazia. Si è stabilita ad Eraclea e fece parte delle quattro famiglie evangeliche, con i Corner, i Bembo e i Sustiniani. Ad Eraclea tra l'altro si annovera tra le 24 tribunizie che nei primordi della fondazione di Venezia costituirono il corpo della patrizia nobiltà. Alla celebre riforma del 1297 con la serata del maggior consiglio, fu fra le famiglie patrizie inserita nel libro d'oro del patriziato veneziano. Firmarono nel 725 l'atto per la fondazione di un monastero nell'isola Memnia, dove sorgerà quello di San Giorgio Maggiore. L'arma di famiglia è infatti la croce di San Giorgio, rossa, sul campo bianco, troncato in alto di azzurro che rappresenta il mare. I Bragadin hanno avuto due fra i primi doji, il terzo e il quarto, per la precisione, sono Orso e suo figlio Deodato e un'infinità di illustri personaggi, sia di toga che di spada, ma anche di chiesa. Si annoverano Vittorio, comandante della flotta che annientò i franchi di Pepino nel canna d'Orfano, Vettore, difensore di Verona contro i milanesi e ancora Giovanni Antonio Bragadin che fu sopracomito di Galea e difese il porto di Venezia dai francesi nel 1797 a poco prima della caduta. Fra tutti però, logicamente, spicca l'eroe per l'antronomasia della Repubblica e quindi Marcantonio, soprattutto per la sua strenua difesa di famagosta del 1570-1571 di cui era capitano e governatore. Non si sa molto sulla vita di Marcantonio, molto è frutto di leggende e rettifiche, ma possiamo riassumere, io posso riassumervi alcune tappe importanti. È nata a Venezia nel 1523 da Marco Bragadin e Adriana Bembo. Il padre era un alto magistrato, uno zio, un alto ufficiale della Marina, un altro senatore e nonno procuratore di San Marco, quindi famiglia importante. Alto, virile e, una curiosità, era un instancabile nuotatore, quello è arrivato fino ad oggi, nuotava in lagune. Aveva i capelli mossi di un castano rossiccio con gli occhi chiari, azzurri, molto limpidi e raggiunse l'età adulta sotto la tenace istruzione di Ovidio. La condotta esaltata della poloresia amorosa latina di Ovidio si accordava perfettamente con le sue vedute, che aveva imparato molte leggi a memoria, ma al contrario di tanti suoi pari dell'epoca, i quali erano concesse delle cortigiani uno o due amanti, lui non fu un sensualista. Sebbene prima dell'età fosse previsto appunto a questo periodo, chiamiamolo, di scoperta, lui aveva una salda disciplina mentale e una moralità che gli consentirono alla ricerca non solo del piacere, cioè gli perseguiva un fine più importante, cioè il fine della progreazione, un fine più assoluto, un fine che poteva essere raggiunto solamente attraverso un'unione permanente fra un uomo e una donna. Conosceva il latino e il francese e sapeva leggere il greco. Era da sempre fidanzato e disegnato di Domenica Zustinian, una ragazza di 18 anni proveniente da un'altra famiglia evangelica molto potente, molto importante, fondatrice della Repubblica come i Bragadini. A 30 anni ritornò a Venezia dopo essersi distinto oltre mare prima come attacca militare, poi governato ordinare, capo dell'arsenale, capo dell'artiglieria navale a Creta e anche come vicemiraglio e iniziò la sua carriera in avvocatura e come magistrato civile alla Corte Superiore della Repubblica. Ma non sposò Domenica, si sposò per amore con Elisabetta Morosini, rinunciando alla grande facile carriera che il padre di Domenica gli avrebbe sicuramente garantito. Andarono a vivere nel grande palazzo di Canareggio alla Maddalena prima, nella parrocchia di San Felice che era una parrocchia molto legata ai Bragadini e poi in un palazzo in Barbaria delle Tole. Ebbero sei figli, quindi fedele a quanto si era prefisso, cinque maschi e l'ultima assunta una femmina. La carriera del Marcantonio proseguiva come sabio alle decime ma lui anelava un incarico nella marina e effettivamente erano giunti i 45 anni e venne convocato in merito ad un incarico speciale. Il servizio segreto e lo stesso bailo di Costantinopole a Visebarbaro avevano inviato delle notizie circa l'interesse turco per Cipro e in quel momento lui venne nominato capitano generale dell'isola di Cipro, praticamente il governatore, e era la fine di maggio del 1569. Marcantonio partì di là a poco e c'è tra l'altro una lettera scritta durante il viaggio, dettata dalla Galea nelle acque di Corfu il 26 agosto 1569. Venezia, inspiegabilmente anche se l'armata, procedeva fiacamente a rafforzare le difese dell'isola, tanto che Micosia non era ancora finita, Sarvornian non aveva ancora finito del tutto, era una fortezza che richiamava quella a 11 punte di Palmanova in Friuli. I turchi praticamente sbarcarono senza nessun ostacolo a Limassol e solo dopo i 14 giorni di assedio presero Micosia. La testa di Dandolo, governatore della città, venne inviata a Marcantonio Bragadin, che si può ben immaginare con che animo andava ad apprestarsi alle difese del porto di Famagosta. I turchi a Nicosia persero 30.000 uomini, ma il Sertar, l'ala cara Mustafa Pasha, chiese d'ottenne altri 50.000 uomini che, unendosi al corpo già presente, inviò oltre 200.000 uomini verso Famagosta, l'unica a resistere forte della sua moderna fortezza per l'epoca progettata da San Micheli, che aveva anche un bastione particolare, bastione martinengo, che poteva difendere tutti i lati. I soccorsi si attendevano, ma in realtà non c'era un accordo fra la lega cristiana, soprattutto per la ritrosia di Gianandrea Doria a impegnare le sue navi in battaglia e per l'interesse spagnolo nel lasciare Venezia e i turchi a lavorarsi fra loro, anche perché la Spagna aveva in mente un'altra spedizione con Nord Africa. Bragadin ricevette una lettera arrogante da parte di Mustafa con richiesta di resa incondizionata, cioè Sertar ottomano gli imponeva di arrendersi. Bragadin rispose che se voleva Famagosta doveva venire a prendersela e che una volta schiantato il suo esercito sarebbe andato a prenderlo personalmente e avrebbe spazzato la città con la sua barba. Arrivò qualcosa a Famagosta, 7 ottobre una fregata al comando di Fassiodonio, un cambiotto, portò notizie della flotta e a Famagosta si puntò la resistenza proprio perché i soccorsi erano stati promessi e sembrava arrivassero. Poi arrivò in gennaio una flottiglia di 13 galei e 4 navi da trasporto al comando del valente Marco Quirini che forzò il blocco e sbarcò 1700 uomini e 150 cannoni, viveri, munizioni e il comandante Alvise Martinengo che comandava questi uomini. Quirini consegna a Bragadin anche alcuni prigeneri turchi che aveva catturato sulla via del perennaggio verso la Mecca. Il 19 maggio all'alba 1500 cannoni turchi scatenano un bombardamento di potenze inaudite su Famagosta che si prolunga senza sosta e notte e giorno, 72 giorni sino alla fine della battaglia con una tattica di demolizione sistematica delle postazioni difensive e ci si può immaginare anche i difensori in quale condizione psicofisica resistevano. Ma non bastarono a piegare Famagosta, sono state calcolate 170.000 cannonate sparate durante la battaglia e durante i giorni. Così Mustafa Pasha passa alla guerra delle mine e con un impiego di esplosivo enorme da risultare senza precedenti. Arrivò a maggio un'altra fregata sempre Fassiodonio e Bragadin invia una disperata richiesta di aiuto alla quale però non riceve risposta. I turchi continuano a scavare i cunicoli sotto il fossato e raggiungono così le fondamenta dei forti, minandole con cariche di esplosivo. Vasti tratti di postazione saltano improvvisamente e i veneziani cominciano a fare delle contro gallerie per fermare per fermare questo attacco sotterraneo. Il 21 giugno infatti una mina ha aperto una breccia nel bastione dell'arsenale e gli assaltatori però vengono in 5 euro e respinti. Sempre in giugno arriva un'altra fregata che annuncia il prossimo arrivo dei soccorsi e chiede ancora di resistere e i difensori continuano a resistere ma a fine giugno un'altra mina apre una breccia nel rivelino. Anche qui i difensori in sei assalti generali vengono e respingono gli assalitori. In luglio cadono su famagosta 5.000 cannonate in una giornata l'8 luglio ed è solo il preludio a un ennesimo attacco generale che si scatena il giorno dopo. Più massiccio del solito e prende in mira proprio il forte del rivelino. Per arrestare i turchi il comandante Roberto Malvezzi dà fuoco alle polveri ammassate nei sotterranei della piazza forte sacrificandosi con molti soldati ma con loro sotto le macerie rimangono seppolci migliaia di ottomani. A difendere famagosta sono rimasti ormai solo in 2000. In gran parte feriti debilitati dalla fame e dalle fatiche. Si sono mangiati anche i cavalli gli stessi cavalli che hanno usato per fare le sortite con grande danno del nemico e addirittura Baglioni riuscì ad andare a riprendere il gonfalone portato sulle trincee turche da nicosie e riportarlo dentro a famagosta. Però la situazione è disperata. Il 20 maggio da tutti gli stati interessati avevano fatto una lega per soccorrere Venezia ma come abbiamo visto nessuno è partito. Sempre in luglio arriva a Venezia l'ultimo rapporto di Bragadin che ha portato una fregata inviata a cambia. Poi non si sa più nulla. A fine luglio i difensori respingono un'altra offensiva che è durata 48 ore e il primo agosto viene inviata dai turchi una proposta di pace. Nell'offensiva tra l'altro del 31 agosto quando Baglioni fa saltare in bastione dell'arsenale muore anche il figlio del Serdar Mustafa Lalla Mustafa. Quindi il primo di agosto 1571 la tregua dopo 72 giorni di bombardamento fanno taceri cannoni ottomani. Centinaia e centinaia di turchi giacciono morti sul campo di battaglia e sotto le mura. Mustafa ignorava le condizioni degli assediati e vedendo questo numero enorme di morti e di perdite offre ai veneziani patti insolitamente generosi ed onorevoli. Se si arrendono tutti avranno salvi la vita, gli averi, la popolazione sarà rispettata, chi lo chiederà sarà trasportato in un paese neutrale, onori militari per i vinti. Così il plenipotenziario, di là la cara Mustafa Pasha, presenta un documento della capitolazione che è un gran foglio bianco con appeso una bolla d'oro fino sulla quale è scolpita l'effigiene del sultano, promettendo e giurando su Dio e sopra la testa del Gran Signore di mantenere quanto nei capitoli si sarebbe scritto. Questi capitoli prevedevano sommariamente il passaggio salvo e sicuro dei superstiti fino a Creta, l'imbarco garantito e indisturbato delle truppe italiane al tocco di tamburo, artiglieria, armi, mogli e figli, libera partenza per i ciprioti che vogliono seguire i veneziani, nessuna molezza ad italiani che desiderano rimanere a famagosta e i ciprioti che rimangono padroni delle loro facoltà e dei loro beni. Le condizioni di Bragadin sono più che onorevoli, Mustafa le approva esplicitamente, salvo per quanto riguarda le artiglierie che vengono concordate solo in cinque pezzi. Assieme al documento firmato, Bragadin riceve anche i salvacondotti per Creta. e il 2 agosto incominciano le operazioni di imbarco. Il 5 sono quasi tutti imbarcati. Così Bragadin chiede a Mustafa quando desidera ricevere le chiavi, solo le norme del galateo militare del tempo e Mustafa mostra tutta l'intenzione di volersi uniformare e risponde anche a sua disposizione. Lo vedrà con piacere per conoscere chi ha avuto degli atti di gran valore, che aveva mostrato gran conoscenza militare e i suoi capitani che hanno mostrato tanta bravura. Quindi Bragadin esce dalla città con cento archibugieri con le mici accese e da là si capisce quanto e a ragione Marcantonio sospettasse della parola di Turchi e si presenta nella tenda di là la cara Mustafa accompagnato da store Baglioni e dagli alti comandanti veneziani, Lorenzo Tiepolo, Nestore Martinengo che in passato tra l'altro Martinengo era stato proprio amico personale di Mustafa a Costantinopoli, Andrea Bragadin che era nipote di Marcantonio e Gian Antonio, il giovanissimo Gian Antonio e Querini. L'accoglienza è cordiale, però il Pascia si mostra allegro, fa sedere tutti di fronte a lui per la vittoria e addocchia con cupidigia anche il giovane Querini. Quando Bragadin gli consegna però le chiavi muta improvvisamente di carattere e nasce un alterco circa le navi che avrebbero portato a Creta gli italiani. Bragadin non vuole l'equipaggio ottomano o perlomeno non lo vuole tutto. Mustafa dice che le navi non sono un regalo e non sarebbero potute tornare indietro senza equipaggio. Bragadin aveva dato la sua parola ma insomma Mustafa dice guarda mi lasci i Querini come ostaggio. Naturalmente visto e intuito le intenzioni dell'ottomano Bragadin rifiuta e Mustafa si imbestialisce e si fa portare uno dei prigionieri liberati e chiede di suoi compagni e questo prigioniero accusa Bragadin di averli fatti decapitari. Bragadin non si sa se è vera questa vicenda perché Bragadin la nega e dice a Mustafa che può controllare la città e sua può controllare le persone ma Mustafa cerca argomenti di litigio e gli chiede dove sono le munizioni, le tovaglie e quando Bragadin gli dice che non c'è più nulla si rende conto che avrebbe comunque potuto prendere la città senza dare tutti questi questi vantaggi che hanno richiesto e si imbestialisce. Si imbestialisce e qui nasce un alterco, un alterco e tutti i suoi uomini vengono disarmati, lui fa tenere fermo a Bragadin e gli mozza un'orecchia e poi gli fa tagliare l'altro orecchio e il naso da un soldato. Dopo ordina l'eccidio di tutti quelli che sono all'attorno, fa tagliare la testa a sto rebaglione e la mostra alle truppe, la fa mostrare al grido di ecco la testa del gran campione di Famagosta e dal via alla rottura dei cordoni e alle truppe di saccheggiare la città. Le truppe si avventano in città, ammazzano tutti gli italiani che tromano, ovvero entrano le donne di Ciprioti e dalle navi che erano in attesa di partire per Creta vengono fatte sbarcare prima le donne e i bambini che vengono rinchiusi in attesa di essere venduti come schiavi e poi gli uomini che vengono spenditi a vogare schiavi da Remo nelle galee. Nessuno viene riaccompagnato a Creta. Ci fu in questo caso un atto di grande eroismo quando la veneziana Belisanda Maraveggia riesce a liberarsi dal fuoco delle polveri della Santa Barbara e fa saltare due galee. Davanti alla tenda di Mustafa si ammuccherò le teste di 350 tra i quali i principali funzionari veneziani. Lorenzo Tiepolo e il capitano greco Romanioli e Spidiotti vengono trascinati a pugni a calci per le vie prima di essere impiccati e squartati e le loro carni date i cani. E Bragadin? Bragadin per lui purtroppo è ancora vivo e il peggio deve ancora venire. Otto giorni dopo Mustafa si recca a vederla assieme a un santone, un imam che gli propone di farsi musulmano, andava a dare incontri tutti i giorni, ma lui nonostante la testa infettata e il per il taglio delle orecchie, rifiuta. Così per divertire la truppa viene fatto passare avanti e indietro in batteria, carico di grosse gerle di sassi, lo fanno inciampare, le rinfacciano la lettera in cui mi lasciava di pulire il salciato con la testa del Serdar e lo trascino mezzo morto per le strade di Famagosta, finché lo alzano su un'antenna di una nave dicendoli guarda se vedi la tua armata, il tuo Cristo in soccorso di Famagosta e poi lo calano giù e lo tengono in acqua quasi fino all'asfissia, finché lo portano in piazza, lo legano nudo, lo legano una colonna, lui comincia a sentire dei tagli dietro la testa e un bruciore fortissimo e sono gli ottomani che cominciano a spellarlo vivo, gli staccano la pelle dalla testa tenendo e avendo cura che rimanga tutta intera e quando arrivano all'ombelico lui ispira. La pelle poi viene riempita di paglia e ricucita, viene rivestita nelle sue vesti con il cappello di pelliccia, un cappello di pelliccia in testa, in modo che sembri vivo e viene trascinato a cavallo di un asino, prima per le vie di Famagosta e poi sul litorale asiatico. Prima di finire a Costantinopoli da dove nell'arsenale viene trafugata dal veronese Angelo Polidoro che giungerà a portarla al bailo che la spedirà a Venezia nel 1580. Polidoro poi per questa cosa qua verrà bastonato e evirato dei turchi e la Repubblica gli concederà una pensione. A Venezia, nella sua Venezia, troverà finalmente sepoltura prima nella chiesa di famiglia di San Gregorio dove c'è la tomba di famiglia, poi il 18 maggio 1596 a San Giovanni e Paolo, il pantheon della Serenissima dove oggi si trova ancora. Nel 1961 venne organizzata una ricognizione in occasione del restauro del monumento ed era presente anche mio zio Giorgio, Giorgio di Sara Bragadin, assieme a Marco Antonio Bragadin, ammiraglio della seconda guerra mondiale e la moglie Nelda Bragadin ovvero Maria Grazia Siliato. Aprirò la cassetta dall'urna e vi elenco cosa venne trovato. Fiocchi di fibre probabilmente di cotone greggio, il loro colore è bianco-giallastro, al tatto sono leggermente untuosi. Una massa rotondeggiante dalla forma approssimativamente di un cranio umano, il suo colore è bruno con diverse gradazioni. Essa è costituita da una sostanza il cui spessore è quello di una pelle umana disseccata, riveste un ammasso di paglia dello stesso colore e in parte sgretolata. Vari piccoli frammenti di sostanza brunastra che esaminati rivelano portare ancora qualche resto di peluria. Un frammento più grande della stessa sostanza recante una piccola netta cicatrice da taglio. Il frammento viene identificato per pelle umana. Ciocchi di capelli umani ottimamente conservati e di un bel rosso tizianesco scuro ondulati. Un frammento di tela grezza cucita grossolanamente con spago. Un pezzo di spago perfettamente conservato lungo a circa 10 cm ritorto ancora nella forma di un'antica cucitura destinata a congiungere due lembi di stoffa o di pelle. Non rimane però traccia del materiale su cui la cucitura è stata effettuata. Una falangetta del mignolo. Abbondante paglia ben conservate di colore bruno che al tatto risulta impregnata di una sostanza leggermente irritante. I vari frammenti di pelle di diversa grandezza. Molta polvere di colore bruno che si mescola ovunque alla paglia e copre il fondo della cassetta. Presumibilmente resti della pelle. Quindi dopo questa accurata e preziosa esposizione che ci manifesta ed esprime quanto Alessandro di Serra Bragadin sia trascinato d'amore per la sua città e la storia della sua famiglia, chiediamo al nostro ospite di indicarci una lettura per l'approfondimento dell'argomento del giorno. Assolutamente. Io consiglio in questo caso due letture. Non sono delle tesi, nemmeno dei ritrattati. Sono due romanzi che rendono forse più piacevole la scoperta di questa vicenda. Uno è L'assedio di Maria Grazia Siliato, come dicevo, moglie di Marco Antonio Bragadin, ammiraglio della Seconda Guerra Mondiale. Per questo libro L'assiliato ebbe la cittadinanza onoraria di Cipro. È un libro introvabile perché è fuori catalogo, ma nel mercato dell'usato si trova perché ha avuto una grande diffusione. Il secondo libro che consiglio, che è un libro abbastanza impegnativo per il volume, è Bragadin di Sergei Zyelstin, che è un giornalista russo nato a Mosca, cresciuto a New York e che racconta molto molto bene, anche romanzando alcune parti, anche la vita di Marco Antonio Bragadin. Ringraziamo allora Alessandro di Sera Bragadin per averci appassionato con il suo racconto e salutandolo ci auguriamo di riaverlo ancora presto con noi e gli auguriamo fortuna e soddisfazioni per il suo romanzo Venezia 1797, oltre alla fine del mondo. Grazie a te Fabio, un saluto a tutti quanti. Si conclude qui la nostra puntata, ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno, vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale YouTube Venezia Classic presenta Almanacco di Venezia. Il proverbio del giorno L'acqua de Maggio inganna il Vian, par che non piova, ma se bagna il Gabban. Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. L'acqua di Maggio inganna il Vian, par che non piova, ma se bagna il Vian, par che non piova, ma se bagna il Vian, par che non piova, ma se bagna il Vian. Buon compleanno Venezia, par che non piova, ma se bagna il Vian, par che non piova, ma se bagna il Vian.